I corsi di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro del Movimento 5 Stelle con il consigliere regionale Marco Fumagaglia ha denunciato il Consiglio Lombardo a Procura e Ispettorato del Lavoro e ATS perché i lavoratori, in particolare i dipendenti del gruppo consigliare, non avrebbero ricevuto la formazione obbligatoria prevista dalla legge. La risposta del Consiglio regionale, gli uffici si sono attivati per erogare i corsi già nei prossimi mesi, i tempi tecnici per scegliere chi farà la formazione ci permetteranno di partire con i corsi già prima della pausa estiva.